Siamo con l'autrice sordiente ischitana Lisa Manuela Mocciaro che domani presenterà il suo primo capolavoro letterario Le vacanze di Esopo ad Ischia. Come nasce questo libro? Nasce un po' dal desiderio di raccontare la propria isola ai bambini perché altre città hanno guide inerenti al proprio posto illustrate in modo da farle vedere anche a loro, anche turisti piccoli noi invece ho visto che non abbiamo molto quindi di conseguenza ho pensato di fare tre storie che potessero mostrare tre posti della nostra isola solo per questo I protagonisti sono animali Sì, assolutamente perché gli animali hanno un approccio più immediato con i bimbi appena li vedono subito li indicano e vogliono andare a sfogliare il libro Nel libro ci sono delle illustrazioni che sono tue Sì, le ho fatte tutte a mano e altre in digitale però sempre a mano praticamente è come se disegnassi su un foglio digitale ho deciso di lasciare tutto un po' più artigianale rispetto a libri che sono tutti in digitale sinteticamente oppure a mano e colorati in un certo modo Perché questo titolo Le vacanze di Esopo ad Ischia? Perché penso che devo dare atto a Esopo delle migliori storie che ha fatto nelle fiabbe per i bambini e in più devo valorizzare l'isola di Ischia perché è giusto che sia così quindi quest'anno siamo l'isola più bella del mondo a quanto ho capito io Come nasce la tua passione per la scrittura ma anche per il disegno? La mia passione per la scrittura nasce principalmente dalla mia nonna che scriveva tante poesie la mia nonna paterna, Lisa, si chiamava come me e poi dalle tante letture che mia mamma mi ha fornito perché poi mia mamma legge tanti libri e io ho potuto sfogliarne parecchi mentre per l'illustrazione, oddio, è più una cosa visiva da quando ero piccina poi ricordiamoci la televisione degli anni 90 aveva tante animazioni tanti cartoni animati, mettiamola così e la Disney faceva tanti film io da tutte queste cose ho iniziato a illustrare da piccola appena avevo cinque anni Ricordiamo quindi l'appuntamento per domani Allora domani alle 6 si terrà una presentazione del mio libro all'Eden Park a Forio Il libro è stato scritto, ricordiamo anche l'editore L'editrice è Erminia Turco la casa si chiama Valentino Editore Dove è possibile trovare il libro? Si può trovare tranquillamente sul sito di Valentino Editore e su tutte le cattolibrerie tipo Mondadori che c'è a Ischia o a Castella Ragunese persino o persino anche negli articoli per turismo, insomma, i souvenir e sono stati che vedi